Bene, siamo arrivati infine all'animazione Allora, abbiamo la nostra farfallina La nostra farfalla, vedete che A parte che è un pochino storta Quindi la prima cosa da fare, direi È vederla dall'alto Beh, a parte che comunque Anche se è un pochino storta Può essere realistica Comunque questa qui sarà la nostra animazione Però per animarla, prima di tutto Bisogna, come abbiamo visto Mettersi delle ossa Allora, le ossa Le faremo Beh, intanto Bisogna decidere se fare un oggetto unico Oppure tre oggetti Adesso sono tre oggetti Per poterlo gestire meglio, direi Facciamo click, shift click E shift click Ctrl J In modo tale da Non l'ha fatta molto bene Quindi perché ci sono le Ci sono C'eravamo dimenticati di applicare le cose Quindi andiamo in object mode E senz'altro andiamo ad applicarle Avremmo dovuto farlo già prima E forse ci semplificava un po' di cose Quindi applichiamo, applichiamo Applichiamo, applichiamo E poi qua Non ci sono modificatori Quindi adesso se noi Facciamo Quello di prima Selezioniamo Poi Shift click Shift click Ctrl J Adesso vedete che La farfalla Praticamente è Abbastanza Buona Se la vediamo di qua La vediamo anche Texturizzata Ora A limite la possiamo aggiustare Se ci è sempre sbagliata In effetti qui probabilmente Bisognava allargare un pochino la testa Perché così è proprio sigalo Ma Teniamola buona così Togliamo la texture Che può essere un pochino Dispersiva E cerchiamo di Vederla in maniera Diciamo Sempre dall'alto La ruotiamo In modo tale da Uff Ma si Vabbè Senti La ruotiamo in maniera tale Da averla Bella allineata Poi a limite La rirutiamo dopo E dunque Per animarla Abbiamo detto Bisogna metterci delle ossa Quindi In modalità Object Facciamo Shift A E inseriamo L'armatura Quando inseriamo L'armatura Quello che in realtà È successo È che lui Ha inserito Un osso Fatto così Abbiamo detto Che l'osso Sostanzialmente Ruota attorno alla testa La testa sarebbe questa Quindi Per far ruotare L'ala Dobbiamo Beh intanto Dobbiamo fare Un bel G X Per dire che Ruota Beh potrebbe anche ruotare Attorno al centro In realtà O se no L'attaccatura Della Della nostra Ala E poi dobbiamo ruotare Lungo la Y Quindi facciamo R Y E facciamo 90 Ok E in questo modo Praticamente L'osso Vedete che Facciamo magari G Z Per metterlo Un pochino Sopra Vedete che L'osso Praticamente Compare E anima In quel modo Tab Per andare In edit mode Selezioniamo Se ci riusciamo Qui siamo In Object Armature Quindi si dovrebbe Poter selezionare Questo G X Allurghiamo L'osso In modo tale Da arrivare Fino all'estremità Della nostra Della nostra Della nostra Ancora Un altro osso Abbiamo detto Quindi facciamo De selezioniamo Tutto Facciamo Shift A Quindi abbiamo Un secondo osso Che a questo punto E di nuovo Quello Facciamo Il contrario Quindi facciamo Mentre siamo In Ah questo qui Ok L'ha preso All'interno La stessa armatura Però Mentre siamo In modalità Questa Selezioniamo Tutto l'osso E lo ruotiamo R attorno Al Vedete La Y Il verde Quindi R Y E facciamo Però Meno 90 Ok E poi Cerchiamo Di Uno Ok Lo Mettiamo Più o meno Qua E poi Mentre siamo Sempre qua In selezione Facciamo G E lo portiamo Fino Al fondo Quindi G X Lo portiamo Fino All'estremità Ok A questo punto Abbiamo fatto No Se lo prendiamo Dall'alto Facciamo G E lo portiamo All'estremità Dell'ala Ok Quindi le due ale A questo punto Hanno delle ossa Che le controllano Vi ho detto Che per verificare Cioè Per riuscire A collegare Una mesh Con le ossa Occorre Intensi tutto Andare in Object mode Bisogna selezionare Per primo La nostra mesh E poi Con shift Clicchiamo Sull'armatura E infine Facciamo Ctrl P E facciamo Armature Deform Con Automatic Weights Ok Dopodiché Cerchiamo di vedere L'oggetto Un pochino In prospettiva Selezioniamo La nostra armatura Andiamo Nella modalità Che a questo punto È La modalità Sarà Pause Quindi selezionando Un osso Vediamo se effettivamente Ci sta Girando In modo Opportuno La nostra ala Quindi facciamo R E poi Facciamo Direi Y Sempre il verde E vediamo Se effettivamente Ci gira Ok Ora Quello che notate E questo è un punto Interessante E che Si gira Anche La parte Centrale No Questa Cioè Questa armatura Ha effetto Anche su Quel signore Questo probabilmente Perché è troppo vicino Non è bello Questo Perché se noi Giriamo Questo osso Così E poi Giriamo anche Questo Con R Y Vedete Che si ottiene Un Beh Comunque In linea di principio Potrebbe anche andare Da lontano Potrebbe anche funzionare Cioè Si evolvono Però si correggono Un po' Quindi io direi Per evitare di introdurre Adesso il weight painting Che magari poi Vedremo In un'altra In un'altra situazione Ci accontentiamo Di questo tipo Di rigging Nel caso Un'altra Un'altra possibilità Può essere Semplicemente Quello Di Non mettere Almeno In fase di rigging Non mettere La parte Centrale Del corpo Comunque adesso Facciamo che Ce la teniamo Così Allora Prendiamo Pause mode La pose Facciamo Clear transform Per avere La versione base E quindi Partiamo L'animazione La nostra animazione Vogliamo fare Avanzare Questa farfalla Alzarla in volo E che si muove Lungo questo percorso E che parte Da una posizione Zero Ok Quindi cosa facciamo Selezioniamo Tutto il nostro Quindi andiamo In modalità Object Selezioniamo Shift Sia l'armatura Che il nostro oggetto E poi Cominciamo a fare Un'I Un'I Dove mettiamo LockRot In realtà Ho messo anche LockRotScale Ma visto che la farfalla Non cambia Di dimensione Basta LockRot Quindi se facciamo Location e Rotation Così Abbiamo inserito Praticamente Tutte Il fotogramma Iniziale Che definisce Sostanzialmente Cosa deve Capitare Il momento Uno Poi andiamo Al momento Venti E quando andiamo Al momento Venti Cosa facciamo Prendiamo Tutto il nostro Nostra farfalla E cominciamo A muoverla Quindi facciamo G Y La muoviamo Praticamente Qua ad esempio E poi G Z La muotiamo In aria E poi magari Incora ruotiamo Tutto Attorno alla X Quindi Rx Perché la farfalla Si libra in volo Potrebbe essere Si Inoltre La farfalla Praticamente Cosa fa? Cioè comincia Ad andare Quindi selezioniamo La nostra Armatura Andiamo In modalità Pause mode E poi proviamo A A prendere A fargli Le ali Che si muovono Quindi prendiamo Prima Questo Osso Facciamo R E lo muoviamo In circa 45 gradi Prendiamo L'altro osso E lo muoviamo Anche lui In circa 45 gradi Ok? Così abbiamo Si In realtà Dobbiamo Prenderla Lateralmente C'è proprio Di punta Perché se no Ci sono Queste Queste Diciamo Deviazioni Comunque Più o meno Se riusciamo A prenderla bene Diciamo che Se fosse Completamente allineata E non Inclinata Sarebbe Più facile Comunque Supponiamo Che questa Sia la situazione Di animazione Al momento 20 Quindi a questo punto Cosa facciamo Andiamo di nuovo In object mode Selezioniamo Sia l'armatura Che l'oggetto E poi La facciamo Di nuovo Un I LockRot Quindi abbiamo Praticamente Animato Dal momento iniziale Fino a questo punto Se torniamo Indietro Dovremmo vedere In realtà Non vediamo L'animazione Della nostra O per meglio dire Non avevamo Non avevamo Fissato Le animazioni Evidentemente Dell'armatura iniziale Quindi Riproviamo Quindi andiamo qua Il momento iniziale Selezioniamo Selezioniamo L'armatura Andiamo in Pause mode Facciamo Pause Clear Transform All In modo In modo In modo Che le ali Siano Normali Così E poi Proviamo A vedere Se adesso Facciamo I D LockRot Ok Vediamo Se così Funziona No Ah perché A questo punto Dobbiamo andare Al punto 20 Vedete che qui ci sono Le ossa Che a questo punto Si erano animate Quindi stiamo andando bene Nel senso che A questo punto Arrivati a questo punto Sempre in Pause mode Selezioniamo La E facciamo Effettivamente Quello che stavamo Cercando di fare Prima Quindi facciamo R Facciamo Questo bone Lo mettiamo qua Poi prendiamo questo R Facciamo anche Il bone Di là E poi selezioniamo Le due ossa Queste E facciamo I LockRot E vedete che sono comparse Anche Le due ossa Queste cose Perfetto Ora Come fare per Vediamo un po' se funziona Quindi vedete che Praticamente La nostra forfalla Parte con le ali piatte E arriva al momento 20 Con le ali inclinate A questo punto Cosa facciamo Facciamo A Deselezioniamo tutto Ho detto Deselezioniamo tutto Qualcosa è rimasto Selezionato Qualcosa è rimasto selezionato Facciamo B Per selezionare La parte iniziale Questo perché è rimasto selezionato Non si sa Niente Andiamo qua A A Forse perché c'ero sopra Col cursore Selezioniamo questa Posizione iniziale Facciamo Shift D La duplichiamo E la portiamo Al punto 40 Allora Così Quello che succederebbe E' che lui Praticamente va avanti E poi torna indietro Vediamo un po' E però Non ci ha animato Le ossa Ne facciamo Allora magari Una cosa Di quest'altro tipo Quindi Questi frame Questo frame Al 40 Lo proviamo a cancellare X Delete keyframes Ok Nella posizione 40 Quindi vedete Questo Era Il coso Nella posizione iniziale Invece che cercare Di copiare direttamente Tutti i frame Ci copiamo direttamente Tutto il nostro Oggetto Quindi andiamo Comunque Nella posizione 40 Che è questo E Quindi dobbiamo andare Nella posizione 40 Che è questo Dobbiamo muovere Questo oggetto Quindi lo Selezioniamo Questo Andiamo in Object mode Selezioniamo Sia La farfalla Che Le ossa E poi Andiamo di lato Questa qui Siamo la farfalla La spostiamo G E la spostiamo Un po' più In alto Ok E magari La ruotiamo Un pochino In modo tale Che si metta A rigore Ok E poi andiamo A A metterci Le ali Diciamo Dritte Quindi per andare Sull'area dritte Selezioniamo Le armature Quindi Object mode Abbiamo selezionato L'armatura Andiamo in Pause mode Ok Poi Selezioniamo Beh Possiamo Possiamo anche Rimettere La clear Clear Transform All Quindi Praticamente La farfalla E' di nuovo Più o meno Dritta E qui Facciamo I Lock Rot Quindi Ci siamo Registrati L'armatura E però Ricordiamoci Anche di Registrare In modalità Object mode Andiamo a Selezionare L'oggetto E facciamo Il I Lock Rot Anche Dell'oggetto Così in questo modo Abbiamo Qui ho sbagliato un attimo Siamo Alla posizione 39 Facciamo un attimo X Delete keyframe No Ctrl Z A Quindi facciamo X Delete keyframe No Dove L'ha selezionata B X Ok La mettiamo Sulla 40 Ah ok Ci abbiamo perso Ah no Abbiamo perso Solo la posizione Perché abbiamo Questa qui E' la nostra Sfera di partenza Vedete che Si è tornata A sbattere Lì sotto Però non si è spostata Quindi La riprendiamo In object mode Selezionando tutto E la facciamo Di nuovo Questo mestiere Con R Ce la raddrizziamo E poi Poi facciamo I Lock Rot Vabbè 39 Va bene Anche così In realtà Avremmo dovuto Avere 40 Qua come Come keyframe Quindi Praticamente Qui vedete Che abbiamo Questa Evoluzione Che è interessante Ok Allora andiamo Poi a fare Di nuovo Lo stesso mestiere Con le ali Aperte Magari Sulla posizione 60 Quindi Ci mettiamo Nella 60 Siamo Nella 60 Selezioniamo Selezioniamo Tutta questa Questa nostra Farfalla La facciamo G La spostiamo Un po' più avanti R Facciamo magari In discesa Ok E poi Facciamo I Lock Rot Così abbiamo Selezionato Anche questa Cosa Dopodiché Però Dobbiamo Rifargli Le ali Aperte Quindi Cosa facciamo Andiamo Selezioniamo Solo L'armatura Pause Mode Poi Facciamo Così Ci mettiamo Sempre più o meno In qualche modo Di fronte Ah Tra l'altro Qui siamo in Perspective Perché anche questo Può essere Un problema Perché se ci mettiamo Di fronte Più o meno Dritti Tipo così Possiamo fare R E poi R Sposto il mouse E riottenere Diciamo Questa informazione Poi faccio I Lock Rot Quindi a questo punto Direi che Abbiamo Potremmo Avere questa Animazione Pronta Controlliamo Vedete che sembra Di sì Ok In qualche modo Siamo riusciti A animare Fino qua A 60 Potremmo fare Altre animazioni Adesso la cosa Che ci interessa E capire che L'animazione Effettivamente L'abbiamo fatta Quindi Cosa facciamo Diciamo che L'animazione Arriva fino A 60 60 E poi Facciamo un play Facciamo un play Dell'animazione Quindi vedete che La nostra Farfallina Si fa Un paio Di Giri Di ali Per vederlo Così la vediamo Texturizzata E magari Andiamo in Object mode A E così Vedete che Si vede anche Si vedono Tutte le ossa Se noi Vogliamo Forse c'è qualche Difetto Qui si vedono Dei frame Rossi Ma Li vedremo Poi In un'altra Circostanza Per vederla Un po' meglio Allora Questo sarebbe Il video Che viene fatto Il video Che viene fatto Per vederlo Texturizzato Bisogna premere così Quindi abbiamo Effettivamente La nostra Farfalla Che gira O addirittura Così per vederlo Nella renderizzazione Migliore E poi Se vi ricordate Abbiamo messo Ancora Uno sfondo Vediamo un po' Se ce la facciamo Quindi facciamo Un background Gli mettiamo Un environment Texture E nell'environment Texture Andiamo a vedere Se riusciamo Aprire Una Photoblender Ci abbiamo Uno sfondo Questo qua Ok E questo sfondo Lo possiamo vedere Anche Ah Diciamo che qua C'è una Qui È carina In realtà Questa cosa Che si vede La sfarfalla Che sfarfalla Effettivamente In un campo E diciamo La nostra bravura Di animatori Sarà poi Nel Nel riuscire A fargli fare Un'animazione Più o meno Convincente Però Sostanzialmente Questo è Ok Quindi Direi che La cosa Che volevo Farvi vedere Più o meno L'abbiamo vista Qui ci sono Una serie di difetti Effettivamente Tipo vedete Che quando Quando Svola Disturba Un po' Il corpo Centrale Ripeto Questo si può Ovviare Semplicemente Animando Mettendo le ossa Senza il corpo Centrale Oppure In realtà C'è anche un altro Sistema Per farlo Che è il Weight Painting Che magari Vi faccio vedere In un altro video Non in stasera Vi farò vedere Come evitare Che le ossa Abbiano delle azioni Un po' Strane Sul corpo centrale Bene E' tutto Diciamo Per l'esempio Della farfalla Animata Con due ossa